Avrebbe maltrattato e malmenato l'ex marito non essendosi rassegnata alla fine del loro matrimonio. Ad una donna, gli agenti della squadra mobile di Vibo hanno notificato un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e messa dal GIP di Vibo Valencia su richiesta della procura. A seguito della denuncia presentata dall'uomo, che ai poliziotti ha riferito continue aggressioni da parte dell'ex compagna a base di schiaffi, graffi, morsi, lancio di oggetti anche in presenza dei figli minori e persino sul luogo di lavoro. Gli investigatori della sezione specializzata per i reati contro la persona in danno dei minori e sessuali hanno avviato le indagini accertando che in un'occasione la donna, evidentemente in preda all'ennesimo raptus di gelosia e risentimento, ha anche fatto trovare al marito gli indumenti ridotti a brandelli. I riscontri acquisiti degli investigatori, anche attraverso alcune testimonianze, hanno portato all'emissione della misura cautelare del diviato di avvicinamento alla parte offesa, prescrivendo alla donna di mantenere una distanza di 250 metri dall'uomo e dai luoghi da lui abitualmente frequentati, vietando inoltre qualsiasi forma di comunicazione anche per interposta persona.